mister prima di tutto complimenti perché soprattutto nel primo tempo insomma si è vista una squadra direi pronta insomma lo potrei definire così molto aggressiva alta insomma sempre più positiva quindi insomma credo che possa essere soddisfatto di questa prova della sua squadra sì sì sono molto soddisfatto non me l'aspettavo nemmeno io quello che ho visto il primo tempo è stato veramente sorprendente è finito 2 a 0 il primo tempo ma ripeto oltre le mie più grosse aspettative poteva poteva essere anche più più largo il punteggio anche se ripeto il calcio di agosto ha un identità limitata rispetto a quelle che sono le vere realtà però bisogna essere soddisfatti di una grande di una grande prestazione contro la squadra importante costruita per vincere il campionato quindi io sono molto contento poi secondo tempo giustamente abbiamo fatto del del turn 9 perché tutti quanti non possono fare 90 minuti avevamo già programmato le sostituzioni prima della partita quindi si va in avanti in linea con quelli che sono i programmi di lavoro gruppo di giovani insomma abbastanza forte nel secondo tempo insomma comunque non è che non abbiano retto botta anche loro si si no si sono comportati bene insomma c'erano delle qualità magari però si sono soddisfatti si sono comportati bene hanno hanno retto l'impatto contro dei giocatori importanti il siena ha tenuto il 50 per cento della squadra che ha iniziato il primo tempo per tutta la partita noi abbiamo fatto altre scelte e quindi sicuramente sapere che in quella squadra c'erano due tre giocatori che l'anno scorso hanno giocato con la Beretti nella vita il bese altri giocatori che sono molto giovani ma di grande prospettiva questo mi si vede comunque dove l'impatto contro giocatori molto più esperti diciamo non forti ma esperti a si nota però vanno messi nelle condizioni di migliorare bisogna lavorarli e quindi sono soddisfatto dell'intera partita una domanda sulla situazione avete vissuto questi stati invece c'è stato un cambio di proprietà da voi come l'ha vissuta lei che si trova un po a galla diciamo un po a bagno maria no no non sono mai stato in bagno maria anzi quando appena il presidente romano ha acquisito la società ancora prima già aveva espresso il suo desiderio che io fossi l'allenatore di quella della vita il bese quindi non sono mai stato a bagno marina a bagno maria quindi io l'ho vissuta da dentro l'ho vissuto tranquillamente anche perché il presidente ha con le normali difficoltà di una di una nuova proprietà comunque poi ha operato molto bene vista ma deputte mezzala impressionante in maniera positiva ci aveva già giocato in passato è stato un esperimento no io già l'anno scorso avrei voluto farlo giocare là però l'anno scorso giocando domenica mercoledì non c'era il tempo per lavorare e quello è un ruolo che prendere un attaccante e metterlo lì come ho sempre fatto negli anni passati necessitava di giorni di lavoro non avendolo dovevo andare a a prendere il massimo risultato nel minore tempo possibile l'anno scorso detto questo e vante punto secondo me quello lì lo può fare la grande e io ne ero convinto ne sono convinto magari speriamo che per il suo bene perché nella crescita completa del ragazzo ha bisogno di completarsi anche in altri ruoli cosa manca questa vitevese se manca per fare un campionato importante l'anno prossimo insomma perché non la risugnare anche no ma noi questa vitevese manca manca quelle che sono le difficoltà di questo momento ma non è soltanto della vitevese di tutte le squadre che operano sul mercato soprattutto con come noi che devono fare minutaggio e quindi i giocatori under ci sono sono bravi vanno cercati vanno presi e vanno valorizzati quindi non manca molto le difficoltà che ci sono in questo momento penso che ce l'abbiano tutte le squadre di questo della serie c